grazie grazie allora stasera cerchiamo di portare sul palco l'anusfera questa trasmissione è proprio stata l'anusfera, l'avete vede? è l'opera di Roma, che io ho il piacere di condurre una simulatoglia e stasera non ne va per i partiti e adesso noi abbiamo realizzato anche un pezzo dedicato a questa trasmissione con un video che per passare tra poco se tecnicamente tutto funziona e questo brano forse avete avuto fatto si intitola appunto Radio Rock ci siamo?